Mi sono preso un attimo per ragionare sulla bellezza di questa stanza. Se ho capito bene, le casse di pietra funzionano come le golden chest e la gold chest, da wiki, ha un 20% di probabilità di spawnare un oggetto da piedistallo. Quindi, se circa una chest su 5 tendi a dropparlo, essendocene 8 qua, non troppo raramente te ne torni a casa con due item, come in questo caso, e ti costa solamente una bomba. Ebbene, ogni tanto, anche Isaac diverge dalla pura tortura, anche se questa roba l'avrò vista tre volte in vita mia.